La Samba in vantaggio, Alessandro Sabatino non arriva su una palla di testa e arriva il gol dell'uno pari. Però siamo stati bravi a reagire, abbiamo avuto la forza per rimontare questa partita, ci abbiamo creduto, buon per noi. E basta? E basta, complimenti alla Samba, complimenti a noi, complimenti a tutti. Si può dire che Sabatino prima era un po' più brillante, diciamo un mese fa, due mesi fa? Eh, l'età avanza. L'età avanza? L'età avanza. Quindi che fai, in maggio apprendi le scarpette al chiodo? No, 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 dopo giugno forse. Ma lei Caprano non ti interessa? No, intanto finisco quest'anno, poi speriamo bene che vada, poi naturalmente voglio giocare fino a 40, 42. Da tornare a lavorare non me va ancora. Fai fruttore. E apposta, metodo 6 e 4. A parte gli scherzi, che partita è stata oggi? Una partita aggressiva, noi ci abbiamo messo tutto, ci abbiamo creduto, siamo riusciti comunque nelle ripartenze, anche nel gioco penso, di arrivare sotto porta e avere delle occasioni. Più complicata domenica scorsa o oggi? Tutte e due, ogni partita è a sé. Ognuno ha i suoi punti di forza e noi cerchiamo di toglierli e puntare sulle nostre ripartenze appunto. E quante partite mancano per la matematica? O meglio, per la certezza? Sempre 9. Sempre 9 partite. 9 partite? 9 partite. E vuoi vincere tutte pure tu? Sempre 9 partite, poi dimmo come stiamo, come siamo arrivati. Te l'aspettavi una stagione così, questa? A me l'hai detto tua, personalmente. Ancora non è finita, quindi... Per ora? Fino adesso è normale, stiamo facendo bene, spero di continuare, che continuiamo tutti quanti a fare bene. Eri abituato a un pubblico leggero? No, pubblico così, no, cioè sono stato in altre piazze comunque, però vabbè questa me la sento un po' più mia. E quindi sabattino rimarrà per sempre a San Benedetto, pure dopo, quando è vecchio con la barra? Se mi trovate a casa... Complimenti. Ah, volevo fare un saluto a... comunque a mio figlio che è nato... Si chiama? Matteo. A tutti i difusi e specialmente ad Alessio. Forza Alessio!